Sono le 5 e 14 minuti. Oggi, domenica 10 giugno, da una tranquilla vigilia elettorale, si vota in tutta Italia. Gli italiani che si recheranno alle urne nelle 76.466 sezioni elettorali per eleggere i 630 deputati e i 315 senatori saranno 42.223.813. Si presume una discreta affluenza alle urne di lavoratori italiani residenti all'estero. Sono stati perciò predisposti dalle ferrovie dello Stato treni speciali. Anche la nostra compagnia di bandiera ha istituito voli straordinari per permettere ai nostri emigranti di raggiungere le rispettive sedi elettorali ed esercitare il loro diritto al voto. I seggi, nella giornata di oggi, domenica, saranno aperti dalle 7 alle 22. Domani, lunedì, riapriranno alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 14. Si prevede un'alta percentuale di votanti, nonostante il tempo si mantenga instabile e perturbato su tutta la penisola. A partire dalle ore 10, i nostri notiziari vi terranno informati sulle prime percentuali di votanti, regione per regione, a mano a mano che ci perverranno i dispacci d'agenzia. Ci colleghiamo adesso con la nostra redazione di Milano per trasmettere un servizio del nostro corrispondente sul ritrovamento in zona Galbiate di un deposito di Milano per trasmettere 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 Sì, non c'è nulla, c'è nulla. E' più tempo, più amore di più, più amore di più. E chi sa, perché. E chi sa, cosa che hai in Badèria in Badèria? Paolo Pascuali. E votami bene Pasquale, mi raccomando E certamente che quello vota bene Quello la moglie la lascia qua Se vado io invece la moglie la trovo Oh, chi è? E beh, ad esso che si va in Italia Allora lui si Magda, per l'amor di Dio, fermati Ma scusa, Fulio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così Eh, tesoro Quando compi queste operazioni Devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico Ogni cosa deve combaciare con l'altra E deve essere come un puzzle, né più né meno Su, bambini, salite Venite qua Anton Giulio, vai al posto ad Anton Lugo E te, Anton Lugo, vai al posto ad Anton Giulio Perché c'è un leggero squilibrio Questo è già un assestamento più accettabile Eh, d'altro canto la perfezione appartiene solo a Dio, per carità Sentite, tesoro, allora, vediamo un po' Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh? Sì Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì Le persiane le hai spranghate? Perfetto La sacca e i documenti l'hai presa? Sì Codice fiscale, carta e identità partita IVA? Sì Luciano La prossima otta, scusa, prendilo da Gino A parte il fatto che il taglio è migliore Ma poi il prosciutto di Gino C'è tutto un altro sapore rispetto a quello di Luciano Scusa Eh, d'accordo? Sì Senti, un'ultimissima cosa Il binocolo l'hai preso? Ma a cosa serve il binocolo? Come a che serve? C'è tutto il tratto appenenico Da Bologna a Firenze Che paesagisticamente è una favola Vabbè Papà, papà, l'ho preso io Bravo Otta ad Anton Giulio e cinque alla mamma Povera mamma Sto scherzandoci Ci mancherebbe altro Manca un minuto alle sette e trenta Questi questi l'impiego per richiamare Lasci, d'accordo? Tu mi aspetti qua Lasci Lasci, un momento Magda, tu mi adori? Sì E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Pronto parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno Senta, io sono un socio ACI Numero di testa La 91 76 55 barra utile come utile Torino La disturbavo per avere qualche delucidazione Dato che mi devo regare a Roma a votare Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti Che in arrivo un'aria depressionale di 982 millibar E questo purtroppo mi ha anche confermato Da un fastidiosissimo mal di testa Che sovraggiunge ogni qualvolta C'è un brusco cano di pressione D'altro canto, caro amico Questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici Senta, io le domandavo questo Secondo lei Partendo fra circa E tre minuti E mantenendo Una velocità di crociera Di circa 80-85 km orari Secondo lei Faccio in tempo A lasciarmi la perturbazione alle spalle Diciamo nei pressi di Parma Pronto? Pronto? Asci pronto? Che strano, deve essere caduta la linea Magda, scusa, ma che hai lasciato i bambini solo in macchina? Scusami Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch'io con voi a Roma Scusa Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? No, ma mi riposo un po', sto un po' sola E poi voi state più larghi in macchina Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa A parte il fatto che daresti un pessimo esempio ai bambini Che sanno benissimo che chiamo a comprare il nostro dovere di cittadini italiani Ma poi spieghiamo una cosa Di chi ti devi riposare? No, spiegamelo Spiegamelo No, di niente Scusami Scusa Magda, dove stai andando? A spegnere lo scaldabagno Ma come? Ma avevi detto di aver fatto tutto Allora sei un po' bugiardella Io vado giù dai bambini, quando esci chiudi con le mandate, va bene? Sbrigati che sono le 7.32 Non ce la faccio più Non ce la faccio Scusi, che ha visto? Una vecchia? Una vecchia? Sì, cioè una signora un po' anziana Ah sì, con un ufficiale Sì, infatti quello è mio zio E un'altra signora? Sì, infatti quello è mio zio C'era la moglie di mio zio, solo lei è mia madre Sì, la sera qui all'ombra E dove sta l'ombra? Non so, due ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata Ma chi si è spostato? L'ombra o mi nonna? Tutti e due, si è spostati tutti e due Insieme Ma va, Remengo Ehi, Romano! Ammaggia Scusi, c'è ragione, scusi Scusi, io già me stavo un po' a scordare E questo cosa si è? Questo serve per chi va in giù, al sud Dove è che l'ha preso? No, guardi, non ci si metta pure lei Perché a me già la destra ne scoppia Perché se dovessi raccontare tutto quello che mi è successo Mi ce vorrebbero due ore Va bene, mi non so niente Comunque sono 12.000 lire 12.000 lire? Naturale Deve pagare da Roma Quanto? E sono 12.000 lire Non ci provano, eh? Immaggia Un minuto! Ma che cazzo? No, no, no Zitti, zitti, fatemi la cortesia Non vi ci mettete pure voi Perché io già ho la testa con un pallone Ciao, Mimmo Ciao, zia Ma che è successo? Non me ne parla Ciao, nonna In che senso? A quest'ora si arriva? Allora a quest'ora si arriva A quest'ora se saluta A quest'ora te ne vai a botar col treno Va bene? Arrivederci e grazie Ma dai, Mimmo Non fare il bambino Mimmo Te ordino di non assumere certi atteggiamenti Ma siete voi che ci hai da atteggiamenti? Quello di ordino Quello di schiaffi Oh, ma io sono partito a mezzanotte da Roma Per venire la prendere Che poi non vi dico Fra abbaglianti E il sudore in mezzo ai gamba La nebbia Stava diventando scemo Che poi mi sono sbagliato Verona con Vicenza Ma, ma come? E che me Mi è rimasto in pezzo L'arena di Vicenza E st'arena di Vicenza Mi ha fatto Oh, ma perché Voi non me sbagliate mai? Mai me sbagliate voi Sbagliano, sbagliano A voi si sbagliano Quello si sbaglia sempre Quest'altra ha sbagliato A sposarsi lui E io mi sono sbagliato Sempre a venire tutti i danni Qui da loro Che me l'ho sponito io Ne ha capito? Mamma Teresa Che proibisco Di dare certi giudizi E poi dico Smettemola Carichiamo i bagagli E fermo la finita No, 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 no Minuto Se prima non mi chiede scusi Non parto, va bene? Dai, sul mimmo Fate pace No Porca puttana Dunema Ma siccome quello Non vede l'ora Di mandarmi via Hai capito? E a me non mannerebbe Da chiedere scusa Proprio a nessuno Ma voglio andare a Roma Voglio andare a votare Per i comunisti Perché lui L'hanno la caccia via Sì, ma non fa scherzi Va bene? Andiamo Sapessi quanto Mi ha fatto stampena? Ma impida Ne che so grande Ma perché I coglioni C'è stampena? Ma ma sto qua Basta Bello di nonna Muovete te Su Mimmo, guarda Qui ci sono tutte le medicine Qui ci sta scritto Tutto quello che deve prendere Le ore e le dosi Il te parire Il pentachef Già l'ha presi Alle dieci gli dai Il derinale Per la circolazione Alle dieci e trenta Gli dai il cardizone Per tenergli il cuore Poi mi raccomando Prima del pasto Che deve essere molto leggero E tutto in bianco Un cucchiaino di eparen Dopo mangiate No, fermate Guarda che A me già me sta scoppiata Sia, fermate Se no veramente Faccio carte 48 Dai, nonno Dai, stai calma Muo, viaggiamo tranquilli Sereni Dai, monta Io non parto Cosa? Non parte E stai dire davanti Lo voglio Perché io voglio stare dietro Che mi fanno male le gambe Io le devo stendere Togliamo il sedile Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ce vuole? Ma che stai a scherzare? Leghiamo il sedile E femmola contenta Mannaggia Ma basta Sempre io con sto problema Deste gambe Io non ce la faccio più E allunga le gambe Ripiega le gambe Ristende le gambe Ritira le gambe Ricopre le gambe Io le toglierai quei gambe Non ce le potrei mettere prima Ste calze elastiche Proprio no In mezzo alla strada Ma stamattina Il colonnello Mi ha detto Mettete le calze Ma io gli ho risposto Un pezzo a mettere Mammo le gambe Mi do Non ce la faccio più Mese con il pieno Allora vabbè Dimmi Lo stanno queste calze Dentro la borzaniera C'è pure il bolo d'alco Il bolo d'alco? Ma se no Mi che entri No Mettiamo Mettiamo queste calze elastiche Col bolo d'alco Ma dove si ti mette? Questo bolo d'alco Sui gambe o sui garzi? Se c'è due Allora forse Andiamo Ma io mimmo C'è il pizzerio Ma che cavolo fai? Oh, è sta buona Dai, nonna Dai, forse Che mo piano piano Ce proviamo Che è? Che è? Ma dove sta ferma? Dai sta ferma Dio Ma vai sul l'edico Ahahahahahahaha E stanno su Taglio Stanno E stanno E stanno Ma fai ridico E stanno Ma fai ridico No Aiuto Basta! Oddio, oddio. Oddio, Oddio. Che è? Per carità! Che è? Oddio! Oddio! Non me lo faccio sotto! Fammelo a mano! Fammelo a mano! Fammelo a mano! Alza la gamba! Per carità! Alza il sedere! La gamba la fa addosso! Oddio! Alza te! Alza! C'ho fatta. No! Che gnoccolone che sei? Ma che te ne dico che sto così? Decra la vita che ce la faccio tutto. Ma stai a scherzare? Ma sto proprio gnoccolone così. Ma che ne so? C'è duemila medicina, sai? C'è un po' di più. Ametrano, va a votare a Matera È molto tempo che manca dall'Italia C'è mica niente da dichiarare? Per me può anche andare Ametrano, ha fatto la foto che sei peggiorato Binario, triste e solitario Tu che portasti via col treno dell'amore La giovinezza mia Pado ancora lo stringere del freno Ora vedo allontanarsi il treno Con lei e se ne va Binario prete parallele della vita Per me è finita Pado ancora lo stringere del treno Ora vedo allontanarsi il treno Con lei e se ne va Per me è finita Allora ma pure il collirio Allora non lo stai a sto collirio Non mi risponde con quel tono Capito? Io ho il riverbero nell'occhio E sto nel sacchetto delle medicine E non sta a sto vicino E non sta a stare qua? Prima siamo a Dato Io ne vedo Oddio nonna, mica l'avremmo lasciata a Vicenza A Berona A Berona, scusa Ah, e vorrà lì che ne faremo a meno E che vuoi fare? No, non c'è provà per niente Non ne famo a meno per niente Va bene? Meno male che mi sono ottenuto sta lista Aspetta un attimo, faccio subito Oddio, scusi Oddio, ma pure le convulsioni Oh, vattene E vattene 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 Non c'è provà, eh Nonna 39.000 lire Te dico solo questo Eh? Oddio, nonna Che c'hai? Indovina tu stava il sacchetto delle medicine Dove? Qua sopra E ma? E mo prova a farmi rimborsà E provaci un po' Mannaggia Aspetta, eh Tiè Nonna Nonna M'hanno fatto un buono Che vuol dì? Vuol dì che... Che te la vinde il culo Familiola, un attimo di silenzio E' arrivato il momento della prima busta Allora, vediamo un po' cosa ha scritto ieri sera il papà Prima di partire Ritengo che il primo rifornimento sarà effettuato dopo chilometri 260 Grosso modo all'altezza di Modena Nord tra le 10.35 e le 10.42 Che ore sono, Magda? 20 alle 11 No, dirla bene 10 e 40 Prego controllare, eh Buongiorno Buenas dias Allora, un bel pienone di benzina Sì Un bel controllino all'olio Batterie Oliofreni Ah, senta, le chiedo una grandissima cortesia Quando vi metta la benzina Stia attenta a non far fuori uscire il limito Mi raccomando, eh Su, andiamo, bambini Magda Dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto Ma allora io parlo al vento Perché? Allora te lo ripeto per l'ottocento cinquantesima volta I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo D'accordo? Anton Luca e Anton Giulio, papà vi chiede un grandissimo favore Tra 20 minuti, 22-23 al massimo, vi garantisco che giungeremo in una bella e ampia piazzola Dove potrete fare con tutta ferma i vostri bisognini Se papà vi chiede questa cortesia, glielo fate questo regalo a papà? Sì, sì, ce la facciamo Ce la facciamo Forza allora, dai Avanti in macchina Forza, forza Magda? Sì Dove ti stai dirigendo? Ma anche io devo fare i miei bisognini nella piazzuola Vai, vai Non sarò certo io a trattenerti con le catene, vai Se vuoi andare incontro alla salmonellosi la troverai la con la mano d'essa Vai, vai Magda, almeno usa questo, scusa Ma cosa l'è? Non copri tavoletta sterilizzato, perlomeno cerchiamo di rendere la vita difficile ai bacilli, no? Dai Tanti auguri E in bocca al vibrione Sì Che te devo dire? Tutto a posto Mi fido di lei, eh? Per l'amor di Dio faccia piano Sono 38.500 lire Ah, benissimo Ah, senta, se lei mi permette Prende una scheda carburante sulla quale le dovrebbe apporre un suo timbro, va bene? Perché non si tratta della normale scheda carburante in dotazione a tutti i contribuenti dell'IVA? Questa è una scheda carburante speciale che viene data a noi funzionari che andiamo in trasferta Ed ha esattamente un doppio vantaggio Eh, ma dove si sarà cacciata? Non ce la faccio più Non ce la faccio più Ci sono stati gli spiriti e l'unica spiegazione è questa Forza, abbassatele sicure Forza Non aprite a nessuno, eh Io vi lascio un filino d'aria, eh Come per i cani Io vado dalla mamma a sentire di questa scheda carburante Ah, senta, lei mi dovrebbe fare una cortesia Se intanto volesse vedere un po' la pressione delle gomme 1,6 davanti e 1,8 dietro Così guadagniamo tempo tutte e due, va bene? Sì, va bene Aprite, bambini Aprite, devo spostare la macchina per controllare la pressione delle gomme Ma aprite, dai! Scusi Magda? Magda? No, Maria Scusi Magda? 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 Sì Magda, è successa una cosa che ha del paranormale Nel portadocumenti non c'è più la scheda carburante Furio L'avremo lasciata a casa L'avremo? L'hai lasciata a casa? Scusa Magda, nella tua borsa ci deve essere tutta la lista di documenti da portare per il viaggio che ti ho fatto ieri sera Ma la vuoi favorire un attimino? Scusa Ecco qua, al numero 22 c'è l'intero elenco dei documenti da portare, tra cui alla lettera C c'è scritto ieri e tondo Certa carburante Scusa? Accettate le scuse? Va bene? Allora, ti aspettiamo di fuori, fai presto Magda Due, due, tre, dai! Due, due, tre, tira! Ma per l'amor di Dio, ma cosa stanno facendo? Fermatevi! Mi spianchiate le sospensioni! Fermatevi! Giù le mani! Fermi! Un bicchier d'acqua, per favore Minerale? No, semplice oria Non... По Grazie Sei andata al bar di nascosto Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos? Ma Furio, io ho preso una pasticca Ancora psicofarmaci? Magda, io ho l'impressione che tu ne stia abusando un po' troppo, eh Magda, tu ti stai rovinando, eh Magda, tu non ti vuoi bene E questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me Grandissimo proprio Comunque sia, per tagliare corto Bisogna andare in macchina a cambiare Anton Luca che si è fatto la pipì addosso Ma come? Ma non doveva resistere fino alla piazzola? Ce l'avrebbe sicuramente fatta Se io non mi fossi dovuto assentare per venirti a chiedere questa famigerata carta carburante E così quattro nel gumi l'hanno sbatacchiavo nella macchina sollecitandogli la vescica Andiamo, forza, dai, muoviti Andiamo, forza, dai, muoviti Andiamo, forza, dai, muoviti Oh no! 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 E questo è tutto per quel che riguarda l'Italia centrale. Passiamo all'Italia meridionale. In Campania, alle ore 9.30, la percentuale dei votanti è stata del 21,5%. Lucania, da un primo controllo, c'è prevenuto soltanto il risultato della provincia di Matera. Sì sì sì! Look at me Jerusalem, come and say il cielo all'Italia, H qualidade è piensato? Oso? Esa si è in tempo. Come hanno presso il Ridge. Il biologo di battere i Pilotii. E' soprano? Oso era ligibleganci. Hoia ha ha! Ha, 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 ha. Ci hanno fregato le borchie? Eh. Eh, lo fanno, lo fanno, lo fanno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oddio, non è che mi metti in circolazione pure a me, sta cosa. Scusi, ma lei proprio qua deve guardare? Perché non si può guardare? Ci sono il terreno mio e guardo finché mi ho fin. Ah, sì? Allora questo è il sedere di mia nonna e lei non può guardare dove gli pare, va bene? Questo è il sedere di una vecchia. E' il culo! Ho già l'età, se non lo raccomoda, monto sopra la pianta e così lo guardo meglio Ah si? Va bene, allora il sipario si chiude, va bene? E dai, e mimmo, fammi questa iniezione, io non gliela faccio più, mi fanno male i reni E poi sai che ti dico, nel sede di la vecchia ce l'hai tu Oh, ma ti vergogno di queste cose? Se vada, guardò, lavastene E ora vedremo chi la spunta, va bene? Va bene? Va bene? Dai, dai, forza di chi, dai Dai, che mo' non c'è nessuno, forza, e questo è il punto? No, più su Più su andiamo a beccare l'osso, e che osso, pare il manubrio della bicicletta E tutto è sempre esagerato Ma dai, ecco un altro Sì, ma che stai affallando i rabbi cancani In che senso? Nel senso che se ti dà un dottore ti può fare pure carcerare Oh, ma guarda, qua mica stiamo dentro l'ospedale che ci stanno infermiere, le suore che fanno Questa poi è pure la prima che faccio io E se vede pure Vabbè, allora dove starebbe secondo lei l'errore, dove sta? Tanto per cominciare la posizione Se gliela fai sulla chiappa destra, gliela farsi pure la gamba destra Se no, te fai il muscolo, te s'encisti e se gonfia la chiappa Che gli succeda la chiappa? Ah, signor, gliela fai il bozzo Gliela diventa come la susina, così Andiamo bene, proprio bene Come la vuoi fare? Corpizzico o senza pizzico? In che senso? No, perché corpizzico è così Ah, io, oh Ho capito, è meglio che la fiamo senza pizzico, se no tutto è buchi pure il dito Ma ma basta, questo mi sta a terrorizzando, nonna Ma chi hai cercato? Dammi lo strumento Ma che sei matto con ste mani? Ma che stai scherzando? Oh, aspetta un attimo Ah, Mimmo, è sì buono, figlio mio Questa è un signora che c'ha competenza, non lo vedi? Competenza? Competenza di che? È un camionista Ma i camionisti sono bravi Io mi ricordo facevo amore con un camionista Era tanto buono e bravo E poi questo sai che ti dico, è stato fatto tutto E poi mi sono stupato Vabbè, fatti gli zioni, tagli Vabbè, tu reggi la bottiglietta, così fai qualche cosa Ma insomma, me la fai o non me la fai, tignizione? Ah, signore, è fatta Gliel'ho fatta T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è una piuma, ma che ha fatto male? Ah, giovane Sta mano può essere vero e può essere piuma Oggi è stata una piuma Tiè Io la saluto, signore Io vi ringrazio Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal predo Sto mestiere non è un mestiere, è una galera Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Vi chiamano il principe, signore Ma davvero, il principe Io vi auguro buon viaggio, principe Tante grazie e tanti auguri De niente, signore, è stato solo Grazie, grazie tante Oh, posso parlare a testa, hai finito? Hai finito? Allora, basta con medici, medicine, siringhe e principi Adesso ci facciamo una tirata fino a Roma Va bene? E che sarà mai una deviazione di cinque chilometri? Ci hai muoveso venti minuti Venti minuti? Sì Cinquanta minuti, ma che orologio c'hai? Tutti là Che c'è? Ci sono i morti Beh, se sono morti E me? Ma dove è che abbiamo trovato la tomba di questo? A me la troviamo, no? Ma il fiore di st'amica tua, come si chiamava? Ma non mi ricordo, riso, come un sorriso, come risaia Ma non vuol dire so risi? Risi, riso, risalo, risale Che ti devo dire? Riso, risaia Sì, ma fammi risa al buro Eh già, non scherzare, no? Ma non mi dico che mi ha portato qua Non ricordi più il nome di questo? Eh, qua c'è stata più di 6.000 morti Ma un morto lo troviamo così Dai Ma lo cercamo, no? Ma scusa Assenti, fai una cosa Tu vai di là Io passo da qua Appena la troviamo Se chiamiamo Zitto La troviamo Mo' è diventata la donna Ma la tomba, no? Ah, la tomba Ma la tomba di chi? Come un sorriso, un sorriso Ma che ne sorriso? Nonna, nonna Che può essere i saliti? Regalami un sorriso Tu che passi Avassini e Leopoldo Avassini e Giovanni Avassini e Gino Proprio a strage d'Avassini Porrasci Nonna Nonna C'è stata una che somiglia Tutto quanto a Nicolino Uguale proprio Mimmo 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 Nonna Dov' stai? Che hai trovata? Hai trovata? Sì? No Però guarda quanto è bella sta tomba Mimmo Nonna Me ne devi fare una uguale quando moro Ma come ti vengono in mente certe cose? Quando moro no io una uguale a questa Senti, anzi Fammi un patto, eh? Io te lascio il casale di Palestina Ma tu mi devi prometti che quando moro mi fai una tomba uguale a questa Guarda quanto è bella Mi piace tanto Non ce penso per niente Non la voglio nemmeno guardare Perché a me non mi piace fare certi discorsi Va bene? Tu sei giovane Tu sei giovane, bello di nonna Non lo fai capire Io sì, io sono anziana Ci devo pensare certi cose Piantala Ammi, guarda che bella ragazza Chissà di che sarà morta questa Ma che te devo dire Perché morono pure un sacco di giovani Lo sai che là per esempio la pieno zeppo dei bambini Così proprio Corelli Ti mettiamo un fiore Ma sta ragazza? Sì Mettiamo gliene due, visto che c'è stato Sì Mettiamo gliene due Bella, eh? Sì No, non sai che mi viene curiosità a pensare Per esempio tutti questi qua, Davide, chissà che facevano Che mestiere facevano, eh? Mi viene curiosità a come a pensarci Questo per esempio, chissà che facevano la vita Avvocato Avvocato? Perché avvocato? Allora vedi che c'è scritto Mettiamo un fiore pure a lui Avvocato? Dai Nonna, senti Te posso dire una cosa? Mi sta bene l'idea Secondo me se c'è stata una settimana qua Cerchia sto riso, sta risata, sto coso Non lo troveremo mai Volemo fare una cosa? Tagliamo la testa al tono Volemo mettere i fiori un po' a tutti quanti Come via via? Sì Scusi, che lei è lì qua? Senta, che lei sappia C'è sta qua su una tomba Un cognome come sorriso, risata Come via da ridere C'è poco da ridere Uno Due Non me dì che non è questo De riso Francesco Ma che riso non è vario? Ma Francesco Francesco pure Guarda, nonna Fermiamoci a questo Perché tanto di meglio Non lo troviamo Va bene? Non lo troviamo Scontrino alla cassa Un panino E sono mille lire Scontrino alla cassa Scontrino alla cassa Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Grazie a tutti. 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 Due, tre, dieci, venti, cento, mille... ma posto... serve aiuto, signore? No, grazie. No, grazie, non c'è bisogno. Mio marito è già andato a chiamare l'acchi. No, grazie a tutti. Ma cos'è, una gomma? ma... ma cosa ti dico mio marito adesso quando arriva? Eh? E beh, gli dice che un signore molto gentile l'ha vista in difficoltà e... e allora... si è fermato e... le ha fatto questo omaggio? anche questo è fatta. ecco fatto. Ha visto che è stata una sciocchezza? Mi spiace, si è sporcato tutto. Dispiace più a me che non posso darle la mano per presentarmi. Comunque mi chiamo Raul. Le prendo un po' d'acqua? Grazie, Magda. Come lo sa il mio nome? Credo di sapere già abbastanza di lei. No, non si spaventi. È che l'ho sentita chiamare da suo marito, però... Posso? Permette? Mi dia la mano. Lei non è una donna felice, vero? Ma cosa dice? Comunque la ringrazio molto. Me ne vado. Tanto la strada è lunga. Ci rincontreremo, no? Ma che fa? Mi cammina sul cerchione? Ma che è, pazza? Fermati, fermati. Ma che si è pazza? Ma tu si è pazza? Ma cosa ti è pazza? E tu gli devi dire no grazie. O al limite aspetti che torni prima mio marito. Ma Furio, ma io gliel'ho detto. Ma lui ha insistito tanto. È stato talmente cortese. E poi non capisco, ma che male c'è? Che male c'è? Te lo spiego subito che male c'è. Immediatamente. Che mi fai fare una figura barbina con quelli dell'Age. Oh. Ma chi divento io? L'uomo che gridava al lupo al lupo. Abbi pazienza, Magda. Furio, ma perché non ce ne andiamo? Cosa ne sanno chi è stato a chiamare? Brava! Continuiamo sempre a ragionare come fai te. Così l'Italia andrà sempre di più a roto. Che guaio che hai combinato, Magda. Che guaio. Adesso io che gli racconta questo. Ma cosa fai, Furio? Rimetti la gomma bucata. Ma per forza, Magda. È l'unica soluzione. Ne sai trovare un'altra? Non la troverai mai. Vai! Non ce la faccio più. Guarda, guarda! Scusate! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Guarda, guarda! Piano piano, arriva! Pro se! Upp! Qui stanno. E tutti! S konscherate! I pensi è colpo! Tu l'ha avuta la teola, tu lo va a rivignare! Vai, vedano, vai! Allora, vai, vai Scusi, ne ho ordinato i cinque polpetti? Io scendo le volte Apri la bocca T'ho detto, apri la bocca Apri la bocca Ah, che schifo, chiudi C'è il colesterolo Mi pare di mangiare dentro la corsia di un ospedale Ce vuoi tornare dentro l'ospedale? Perché se ce vuoi tornare te mangiare la roba mia qua Pazienza ce vuoi con te, mamma mia Scusate, che ce possiamo mettere qua? Non è tanto per me, è per mia nonna che è anziana C'ha tutti gli addici urici negati La vuoi smettere di ricordare tutti i malanni mia a gente, per piacere? Che è nata a votare, pure voi? Non c'è, se mi fai giungo la savata Mi sa che questi sono stranieri Noi, ruschi No, no, ruschi No, altro che stranieri, stranierissimi Ma per chi votate? Il casalà? E' un paese di quelli, i comunisti Oh, io pure vado più comunista Ma che vuoi di comunista? Un'altra cosa, è tutto un altro discorso Un po' ti spiego, un discorso lungo Lo sapete non per chi vota? Il voto è segreto! Oh, e poi che ne sai te per chi voto? Lo so io per chi voti te Ma che sai? Sai! Pagialza, sta cantiva? No! No! Mi nipote è un grado, un piccolione, io lo traduca Voglio vedere come io lo traduce Voglio proprio vedere come no Non mi raccari Mimmo, lo sai a chi assomiglia a sto signore? A quel soldato tedesco che nell'aprile del 1945 Se presentò a casa perché doveva scappà E allora se spogliò da divisa e tu gli hai dato il vestito del nonno E buonanotte al secco Ma non è possibile che tutti i stranieri che vedono Per forza assomiglià a quel soldato tedesco? Basta con sto soldato tedesco! Sì, partiamo! La svitania, la svitania Un momento, un momento, signori Se voi venite a Roma perché non ci venite a trovare? Mimmo, taglia l'indirizzo col numero del telefono Così magari la signorina la porti a vedere un po' Roma Sì, ma questa è il telefono, esce con me Ma questa è a scherzare E perché non vedi la signorina che sorride? Eh, signori, è vero che gli telefona? Eh, guarda che bel viso che c'ha, Mimmo Guarda Eh, ma a te piace? Guardala E la stò a guardà Ma a te piace? Che piace? No, perché gli dai il numero del telefono? E damogli il numero del telefono? Ciao 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 già è a pressione alta famigliolo un attimo di silenzio allora vi comunico che in questo istante la macchina ha percorso 650 chilometri il suo rodaggio è terminato bambini vogliamo dare la prima scassata la macchina vogliamo è vogliamo dare una lezione a quel questione la davanti che fra l'altro di domenica non potrebbe neanche circolare è un urio dai fai 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 ti prego ma tu guarda che trago se sembra i padroni della strada vediamo chi l'ascolta no frena rallenta ti prego macca non intrometterti per quello perfetta per l'alzo del benzo ma chi t'ha dato ma li mortasci l'uomo dai la strada ma chi t'ha dato l'uomo denta con il nudo non parla più ma allora è morto come è morta signor questo questo non parla più questo è morto per davvero io non c'entro niente ma tagliato la strada me si è messo da attraverso tu sei stato testi voglia e lui è benvenuto addosso e me si è messo da attraverso io non c'entro niente i mortacci non c'entro niente i morti e lui non c'entro niente i morti e lui non c'entro niente la strada No, allora, guardi, caro dottorello, dico subito che non mi faccio iniettare un liquido del quale non conosco la composizione, eh? Per carità, eh? No, non fa nulla, no, ma... Basta, state fermi. E' fermi. No, perché, per quanto riguarda i farmaci, no, si ferì con un ferro arrugginito. Vogliono per forza fargli un'antitetanica, ma niente, il risultato fu che ebbe uno sciocche... uno sciocche derrivo. Lei è la moglie? Sì. Allora, guardi, dai primi esami non risulta niente di preoccupante. Gli ho messo quattro punti in fronte. Soltanto suo marito si trova in uno stato di sciocche confusionale. Parla, parla, parla. È un ologorrea continuo, è inarrestabile. Adesso gli ho fatto un'iniezione calmante. Ma guardi, dottore, che lui è sempre così. È il suo stato normale. È fatto così? È fatto così? Io sono stato con lui per meno di un'ora e... Signora, mi scusi, ma non ce la faccio più. E lo dizi a me? Però, francamente, non lo posso neppure dimettere. Devo fargli delle lastre. Lo devo trattenere per almeno dodici ore. Dottore, ma lui lo sa? Eh, lo sa, lo sa. Ha fatto il diavolo a quattro quando glielo ho detto. Prima voleva una camera con quattro letti per voi. Poi voleva far dormire i bambini nella lettica. E poi voleva far dormire lei con una suora. Ma suo marito è un nevrotico ansioso di quelli che... Signora, bisognerà seguirlo seriamente, eh? Allora, signori, noi con i verbali abbiamo finito. Gli automobili sono già pronti all'officina qui dietro la piazza. Dunque, tre possono ripartire anche subito. Sono una è la sua, una è la sua e la terza è un Volkswagen azzurro. Ah, quella è mia. Ma è la mia? È la sua, mia cara signora, un po' un problema, sa? Perché? Minimo, minimo, fino a domani mattina non c'è sta niente da fare. Pazienza, tanto anche il marito fino a domattina. Senta, ma per dormire con i bambini c'è una pensione, qualcosa? Ah, sì, c'è un albergo qui alla fine della salita. Se vuole possiamo trovare qualcuno che l'accompagna. Ma no, l'accompagno io, signora, se permette. No, guardi, non si disturbini. Nessun disturbo, si figuri. Avevo proprio pensato di dormire in quell'hotel. Ma la prego. Perché anch'io mi trovo in un grave stato confusionale. Bambini, su, andiamo, andiamo. Sì, sì, forse. Andiamo, bambini, su che la papà è pronta. Su, andiamo, prego. Prego, prego. Ecco. Buonasera. Buonasera. Una matrimoniale con due lettini aggiunti. No, per carità, il signore sta per conto suo. Mi dia il bambino? Una matrimoniale con un lettino aggiunto, noi tre. Stiamo bene, noi tre. Per favore, mi favorisca i documenti. Sì. Ennio. Ennio! Accompagna la signora alla dieci. Questi? Sì, ben gentile. Oh, ce l'ha una camera libera vicino al dieci, eh? Si può vedere. E vedi? Resisti, nonna! Scusate, che c'è da un gabinetto? Un F.M. Femminona, una cosa urgentissima. Là, di fronte. Dai, forza, dai. Dai, che ce l'amo? Dai, resisti, resisti. Dai. Aspetta, però, mi sa che questo è il di fumatori. Ma che me frega a prendere i fumatori, sì? Mi chiude a chiari, capito? È da 15 km che c'ha sto gori-gori. Dal tuo canto c'è pazienza, c'è anziani, perché non è che c'hanno la resistenza dei nuovi giovani, capito? C'è, è diverso, capito? Per quanto io pure una volta sul pulmo della Dispoli stavo a combinar proprio una cosa, però, però, sono arrivato. Però, lo sai perché c'è ridotta così? Lo sapete perché c'è ridotta così? Perché come i bambini, come da una cosa che gli piace, no? Se la prende e se la mette in bocca, tutto, magna, è terribile, è terribile proprio. Tagliano la testa a Toro. Oh! Quanto costa una stanza? Perché a me quasi quasi mi conviene veramente farla dormire qua stasera e tanto per votare c'è tempo fino a domani, no? 28 mila lire. Mimmo, Mimmo! Mimmo, Dio! Oddio, che gli sta succedendo? Oh, la prendo, va bene, la prendo, eh? Oddio, nonna! Che c'hai? Nonna! 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 Basta con sti scherzi, oh! Io vi piaccio con te, non mi voglio far più, manco bommione, va bene? E poi qui apri, che favo brutta figura, favo! Ma che ce frega a noi? Che ce frega? Sì, ma che ce frega? Ma che stai a scherzare, stai? Anton Giulio. A Don Luca Mamma, ma papà ci deve restare ancora molto all'ospedale Ma che è? No, domani è già fuori Sì? Ma cos'è che vuole? Ma mi lasci in pace? Non posso Basta, se ne vado! Ma perché non metta a letto i bambini e viene a cena con me? No Conosco un ristorantino, da queste parti niente male E poi vorrei raccontarle la storia della mia vita E' molto interessante, sa? E' tre continenti No, guardi, non mi interessa Come non le interessa? Almeno scendiamo giù al bar a prendere un drink Vieni No! Chi era, mamma? Nessuno Era il portiere Nonna Te dico soltanto una cosa, eh 28 migliaia Te dico solo questo Ah, chi mi ha rialza molto qua? Va bene? Allora, qua c'è il letto Là c'è il bagno Là c'è stata la finestra con l'aria Molte riposi E fino a domani sei calma Ma quando si mangia? Se magna? Ma che stai a scherzare? Tu guarda che fino a domani mattina dentro quella boccaccia non ci metti niente Manca un bicchier d'acqua Va bene? Forza, dai, tirate su Che ti aiuto a spogliarli Oh, mamma mia Spagottone sei Dai, su Oddio, nonna Cos'è che ti facevo molto più grassissima? Ti sei contenuta tutte le vertebre qua Oddio, a me me l'hai messo vestito che mi sto soffocata Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Grazie. 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 Sicuro che non ti va di passare una mille e una notte con me ? No, 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 ma manco mezza. Perché non ti piaccio ? E lascia, so già impegnato stasera. La madre di famiglia, eh ? Tanto lo sai con cui la vai in viaggio ? Non so, non mi far andare sull'autostrada anche stanotte, non ci ho voglia. E dai bella, smettila, per favore. Oh, meno male che ci sono ripartito, altre tre volte è andata. Penso qua che andavo incontro, poi comunque si è addormentata. Scusi che se vuoi un panino ? No, no. Un bicchiere a te caldo ? C'ho la macchina spenta. Freddo. Piano. Freddo. Adesso vediamo. I don't want to be a folly. Citto. C'è gente che torna e vada fuori a cantare. Porca miseria, tutte le sere sto rompi i coglioni. E brioche col ciero fanno. Oh, meglio che niente. Perché non vai a rimorchiante quello lì ? Quello ? Ma non lo vedi che cena con una brioche ? Eh ? Beh, ma che ne sai ? Oh, magari la vecchia c'è i soldi. Muoviti, fanno ballare. Dai. E dai. Permetti ? Aspetta. Eh ? Eh, zacchete. Grazie. Lo sa perché dalla parte mia l'inguetta non si vedeva. Caldo oggi, eh ? Eh ? Ma mi dà tanto, stamattina a Vicenzo c'è un'aria abbastanza fresca. Ma lei viene da Vicenzo ? Si. Io a Vicenzo è curata l'arena, no ? Credo. Duro questo. Lei... Non sa scogliare la donna, eh ? Come ? Non c'è niente da fare. Io cos' di cielo sono proprio negato, eh ? Sì. 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 Signore, la vogliono al citofono. A me ? Sì, signore. Sì ? Mi scusi se la disturbo, ma sono le undici passate. I bambini si sono appena addormentati. Se lei continua a suonare, me li sveglia. E poi vorrei dormire anch'io. Non riesce a prendere sonno, eh ? No. Quassù la musica si sente fortissima. La prego, smetta di suonare. Specialmente quella canzone. Perché ? Perché sì. Ma non so poco io a ballare. Ti insegno io, sì. No, ma vedi, forse ancora c'è un ballo di oggi, vabbè. Ma io stilenti, stilisci. Sì. Sono negato, so. Vabbè, però staccati, eh. Se no ho finito dove te era, eh. Mi sento di legno. Non sei di legno. Ah. Ah. Gosto. Non so poco. Balla, balla Non sono capace Ha capito che era una serenata per lei Oh, mi Magda Non la prego Mi lasci Mi lasci Ci sono i bambini Mi lasci I bambini di notte non hanno occhi No, no Mi lasci Mi lasci Magda mia Mi lasci No Ma cosa fai, motto? Mi lasci No Magda No, mi lasci Signora, la vogliono al telefono C'è? C'è suo marito Ma basta, là Ti aspetto in camera mia Al numero 7 Pronto, fuori Come stai? Come vuoi che stia, Magda? Come un torso di broccolo Come devo stare? Senti, ascoltami bene Voi come state? State tutti bene? Sì Vi siete piazzati bene All'albergo? Sì Senti, i bambini che fanno? Dormono? Sì Perfetto, perfetto Ti hanno fatto altre analisi? Sì, ma roba da poco Magda, roba da poco Perché Ringraziando Dio Sua marito è fatto quei dubbi da sciaglio Piuttosto, ma sai che cosa è venuto fuori dalle lastre? Una cosa che ha dell'incredibile Lo sai che è venuto fuori? Che lo spessore del mio perone è molto, molto, molto più grande di quello della tibia Uno spessore a pnove E vedi, questo d'altro canto ti sta a dimostrare proprio il grossissimo vantaggio Che è il latte materno rispetto a quell'artificiale Quindi proprio le teorie di Nino erano proprio delle grossissime bagianate Sicuro che i bambini dormono? Sì Tu stavi dormendo? No Mi pensavi? Sì Senti, attessore, fai una cosa Domani, quando esci dall'albergo, mi raccomando, fatti fare la fattura con l'IVA, eh D'accordo? Ha lei preso il codice fiscale? Sì Allora, Magda Tu mi adori? Sì E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Un bacio ai bubi, eh D'accordo? Miau, miau, miau Buonanotte Ti ha sentito questa, adesso, eh Buonanotte Buonanotte Grazie. Senta, che gli posso fare una domanda? Ma lei che lavoro fa? Io? Io sarei maestra. Ma certo, con quello che guadagnano gli insegnanti oggi... Io sono sempre in cerca di gente nuova. Di conoscenze. Magari per arrotondare un po'. Tu mi capisci? Lo sai che noi a casa abbiamo una conoscenza, no? C'è un nostro amico, simpaticissimo, che sta al proprietorato. Si chiama Avvocato Kunso. Questo qua, pur di aiutare una persona, si ammazzerebbe, guarda. Dopo, scusa, vogliamo fare una cosa? Dopo ci facciamo dare un pezzo di carta con una penna, no? Tu mi segni tutto il tuo curriculum, no? Tutto quanto. Mi segni il nome, il cognome, quello che sai fa' e quello che potresti fa' e tutto quanto. Ma io so fare tutto. Faccio tutto. Io mi sento tanto sola. Si. Specialmente la sera quando devo andare a letto. Non mi decido mai. Mi piacerebbe sempre avere qualcuno. Un po' di calore umano. Anche tu, scusa, come fai ad andare a letto da solo? Di. Non pagheresti una cifra per avere qualcuno accanto? Io pagherei per una verra. C'ho mi nonno in cammina che russa. Ma io non russa. In che senso? Scusa, ma se te senti tanto sola, no? Con tutta sta depressione, allora ti faccio compagnia io. Si? Andiamo? Andiamo? Andiamo. Ma dove vuoi andare? No, fa due passi por vieto, scusa. Dopo. Scusa, perlomeno poi se troviamo una farmacia aperta faccio pure in tempo a comprare sto bimiri, bimiri qua. Dopo. E mi nonna, perché se continuiamo veramente con sto cori-cori va a finire che andiamo a votare i prossimi, fra quattro anni. No, sono le Olimpiadi che si fanno ogni quattro anni. Senti, a quest'ora le farmacie sono tutte chiuse. Ce l'ho io e il bemerini in camera mia, vieni. Ma perché? Che pure desci a cori-cori? Belli sti vestiti. Di chi sono? L'albergo era di una principessa. Su, vieni. Deve essere stata una nobile. Entra. Ma che ci sta qua? Ammazzate, oh. Pure il cucinotto. La televisione. Ma te ci abiti proprio qua? Ah-ha. Per forza che non ti basta lo stipendio? Certo abita dentro un'albergo. Per me è più pratico. I bescetti! Ma che gli dai da mangiare a questi? Perché questi so dalla delicatezza. A me l'altro anno, in un mese, me ne saranno morti i venti. Poi smesi. Che peccato. Lo finito il bemerini? Grazie, lo stesso. Dove vai? Devo andare via. No, no. Mi dispiace. No, no, devo andare via. Proprio. No, non devo. Non hai fatto da paura. È la prima volta. È che non è. Oddio. Oddio. Ma insomma, ma che cazzo? Guarda qui. L'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta. Vabbè al culo. Mi dispiace. Mi dispiace. Nonna, nonna. Ho visto una cosa che mi ha fatto tanta paura. Ma insognaccio, mi dormi su, darete al nonna. Sì, insognaccio. Una signorina, no? Che dice che fa, maestra, no? Così, proprio di punto in bianco, no? Si è presentata tutta nuda, no? Con tutto il coso delle donne dei fuori, tutto il sotto delle donne dei fuori, no? C'era come un bosco nero, no? Come un triangolo. Sembrava proprio come se c'esse delle mutande, però pure arte come mutande. Ma ti ho detto, che insognaccio, Mimì. E si buono, dormi su. Forse erano mutande. E si buono, dormi su. Forse erano mutande. Mimì, ma perché già che se troviamo vicino a Orvieto non fanno un salto al giuomo? Un salto? Ma che te voi saltate con quei gambi? Basta buona, va. Così te metti a cenne 50 ceri e ci stiamo tre ore. Ma che tre ore, sì? Sì, nonna, come se non te conoscessi a te, dai. Mimì, ma comunista, sali, perché su ultimi 100 chilometri se dobbiamo fallisci come l'olio. Va bene? Dai. Oddio, chi è? Mamma mia, ma chi è? Sssssh. Ma signore, io ieri ho fatto l'iniezione. Oggi mi devi ricambiare il piacere. Mi dovete portare a Roma di corsa. Ma che vi è successo? Ma signore, il principe sta rovinato. Per fortuna ha riconosciuto la macchina. Solo voi me potete salvare. Salvare? Salvare che? In che senso? Tu stassi, tu monta in macchina e sbrigati. Oddio, nonna, dai, monta. Tutto a me me te lo capitavo. Dai, muovete. Tutto a me, oh. Mannaggia. Basta, io vorrò costiaggi. Io posso essere vostra madre. Voi sapete che nella vita non viste tante cose. Ma che vi è capitato? So ricercato. C'ho morto sulla coscienza. Scusa, Magda, ma come stai tenendo le mani sul volante? Perché è fuori io? A tesoro mio, le mani sul volante vanno messe alle 10 e 15. Questa è la posizione ideale. Eh? Tu le stai tenendo alle 6 e 25. Pericolosissimo, gli americani guidano le 6 e 25. E infatti muoiono come mosche. Stai più sulla destra, Magda? Un pochino meno di acceleratore. Un pochino meno. Un pochino meno. Ecco. Rallenta, Magda. Ecco. Questa è la gredineria degli italiani. Tu vedrai se fra un chilometro non troveremo una frittata. Ma che cosa dici, fuori io? Va bene, scusa, come l'ho detto. Sei ancora un po' nervosa, no? Per quello che è successo. Pure te c'hai ragione tesoro mio, non ti preoccupare. Adesso andiamo calmi, tranquilli a casa. Tanto nessuno ci corre dietro. Proprio nessuno. Senti, vogliamo vedere un po' di fare il programmino per il dopo voto? Allora, io direi innanzitutto per cominciare... Operazione Strudel. La mamma ne va pazza. Con lo Strudel andiamo là a pranzo. Rimaniamo fino alle 3.25, 3.30, grossomodo. Poi direi di fare un salto dallo zio Piero. Dallo zio Piero consiglierei una visita anche a Nino, dove c'è Clara e Michele e Marcellino, d'accordo? Dopodiché io direi di mettere a votazione queste due soluzioni. O andiamo a vedere la fiera di Roma o andiamo al foro romano. Aperta la votazione, io mi astengo. Foro romano? La fiera di Roma, sì, sì, è più bella. Andiamo alla fiera di Roma, dai. Fiera di Roma, bambini, ha giudicato la fiera di Roma. Oddio, la polizia, mannaggia. Sta buono che non è niente. Ma come non è niente, nonna? Se cercano questo famolo scendano. T'ho detto che non è niente, cammina. Che al 99% non cercano manca a me un controllo regolare. Sì, e se capita l'altro un per cento? T'ho detto da staccarlo con tranquillità, vai. State tranquillo, sul principe, che poi ci penso io. Dovete sapere che io in tempo di guerra ho salvato la vita. Soldato tedesco, basta con questo soldato tedesco, nonna! 4.000. Mo' che gli dico io? Arrivederci. Vai avanti così, tranquillo, senza citati. Oddio. Oddio, scusi. Scusi. Non fatta apposta, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Libretto e patente, prego. Libretto e patente. Patente, sì. Il libretto starà qua. Questo è il libretto. Mo' la patente. Ecco qua. Questo è il mio figlio, eh? Io sono suo nipote. Allora lui è suo padre. Mi padre è questo. Ma che stai a scherzare, stai? Ma allora è suo zio. È mio zio? Ma io non c'è questo. Oddio, a me mi sta a scoppiare il cervello. Guarda, mamma, guarda. Confessiamo tutto, non ce la faccio più. Guarda, non ce mi perde. Questo è il mio figlio. Sto figlio mio, ieri ha mangiato, ha bevuto, ha dormito sempre con me. Questo c'ha un alibi di vero che non finisce mai. Aspetta, puoi scendere? A me. Venga. Vedi, se mi fa parlare. Io spiego alla cacciaio che sono affassitumati. Mi favorisco i documenti. Io documento. La marescia, veramente i documenti mi hanno rubato. Innanzitutto non sono maresciallo. E lei accosti, per favore. Venga con me. Aspetta. Brigadiere. Stai a far fare un traccio. Aspetta, no? Che sta da retta a sto stronzo e a quella? Innanzitutto lei modere i termini. Che venga con me a chiarire la situazione. Io ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, stai contento che mi ha fatto pure carcerà? Che mostrino. A fame, a favore, mi ha fatto carcerà. A fame, a favore, a favore. E proprio vedo, c'ha proprio una faccia da stronzo che non finisce mai. Oh, meta dolce, meta, finalmente ti abbiamo raggiunto. Ah, già, però adesso nasce un problema. Ma che problema, Furio? Finalmente adesso possiamo andare dentro a votare, né? Già, e i bambini? Non essendo opportuno portarli dentro, con chi li lasciamo? Dove li lasciamo? Eh? E allora andiamo a votare uno alla volta, là. Già, dieci e l'ho dalla mamma. Mi sembra la soluzione migliore. Allora senti, facciamo una cosa. Vado io a votare e tu rimani qua con i bambini. Io torno, resto io con i bambini, vai a votare tu, eh? Mi sembra che tutto quanto guardi nel migliore dei modi, d'accordo? Senti, allora il certificato elettorale già ce l'hai. Per chi votare già lo sai. Mi raccomando le preferenze che sono il 4, il 16 e il 44. Mi sembra che tutto, eh? Tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa reciproca è? A fra poco, cara. Cabina 2. Ecco qua. Ha votato Zoccano Furio. Zoccano, signor Presidente, zoccano. Ah, signor Presidente, se mi permette, vorrei far presente a lei e ai signori scrutatori una cosa poco piacevole di cui forse non sono a conoscenza. Che è successo? Niente, è successo che sulla parete della capia numero uno dove Vocanzi ha votato c'è un disegno di un'oscenità sconvolgente. Il mio dovere era quello di informarmi. Tutto qua. Arrivederci. No, no. Che niente. Che cosa? Venga, signor Presidente, vengo a vedere. No, signor, mi dispiace. Lei no. Signora, guardi, lei... Ma perché scusi, perché a me no? Non può vedere, signora? Perché lei dice che... Ma se proprio vuol vedere, allora passa. Ma certo che lo devo vedere, eh? Scusate, mi dispiace per voi. Mi dispiace per voi. Ma visto che ero... Ma visto che ero... Senti, ci vuole qualcuno che... Ci penso io, signor Presidente, però voglio col farsonello. Scusate, signor Presidente, l'Italia di oggi. Questo è l'Italia vostra. Scusate, ma la mamma dove è andata? È andata via. Come, è andata via dove? Non lo so, ci ha baciato, è andata via. Ma come, è andata a votare trasgredendo a tutto quello che avevamo deciso, lasciandovi solo in macchina? Ma è roba da pazzi. Forza, scendiamo un po', andiamo un po' a vedere. Scusate, ma Ghiglioni Magda inzoccano. È qui, è venuta a votare. Un attimo, che controllo. Grazie. No, non ha ancora votato. Grazie. Ma è possibile che non v'ha detto niente? No. Adesso la mamma si è volatilizzata. Magda? 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 Oh, meno male, se non mi arrivo a giù più a parola, mi fa un piacere, mi fai. Ah, ma voglio proprio far duro i sale quando devi fare le scale, senza di me come i sali. E' qui? Di sopra, a Premo Peano. Ah, Giovan, Giovan, che mi accompagni, che non gliela faccio a fare scale? Siccome ho litigato con il mio nipote e non gli ho aiutato la soddisfazione di farmi accompagnare. Ma guarda come sarà via. Scusi, guardi che se gli è sta raccontata da un camionista che hanno arrestato per colpa mia, non gli è eretta, eh? Capito? perché la colpa è sua che fa amicizia con tutti i cani, i porci, i lati, tutti. Non gli sto a raccontare del camionista. Io sto a dichiarazza dei nipote che ho, grandi, grossi e fregnoni, che scambia la sorca per un par di mutanni. Pure questo che ti stai a raccontare. Benissimo, non ti dico più niente, va bene? Oddio, non mi sento tanto bene. Leggimi un po' la borsa. Che c'hai? Che c'hai? Parla con me. Ma va meglio. Grazie, giovano, grazie tanti. C'è scritto il punto. Buongiorno. Capina 2, signora. Grazie. Capina 1. T'hanno detto, Capina, numero 2. Questa è la mia? Alla 2 la c'è te. No, ce l'hai te, ce l'hai. No, ce l'hai te, alla 2 e io ce l'ho. Ma perché non ce l'hanno detto? Perché ce l'hai andato. Scusi, Presidente, che capina gliel'ha dato a questa qua? No, è lo stesso, una qualsiasi. Ma come lo stesso? C'è niente a pausa, c'è sempre la ragione d'essere, è bravo, è destino, eh. Lo sai che te dico? Che il casale di Palestrina non te lo lascio più. Te lo puoi pure scordà. Me fa un piacere perché tanto è pieno dei topi. Silenzio. Ecco, ce lo dico il po' lei. Grazie. Senta, che posso andare a vedere che sta a combinar? Perché siccome non ce l'hai, mi sa che sta a combinar un guaglio. Non esiste proprio. Sono nipote. La posso chiamare? Questa è una che fai scherzi, sai? Sapessi quello che mi combina a me? Signora. Scherza. Signora. Come sempre. Senta, dovrebbe venire anche lei. Era il nipote, vero? Eh, lo so il nipote. Scusi, ma che per caso dice mimo, 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 oddio, 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 perché questo è una che fai scherzi, eh. No, non dice proprio niente. Vieni. Come non dici niente? Venga, venga. Nonna. Nonna. Qualcuno chiami il 113. Nonna. Mannaggia. Ma come se l'avevo venuto a fare? Ma che si muore così senza me e il tempo di fa pace? No, no. Allora che si fa con questo voto? La scheda era sempre aperta. Scusi, il segno c'è. Ecco qua. Siccome lo abbiamo visto, il voto è nullo. Ma lei annulla questa scheda soltanto perché sa che voto c'è. Io non ho nessun interesse. Io sono qui solo per garantire il rispetto della legge. Guardi, lei sostiene che questa era mezza aperta. Io sostengo che era mezza chiusa, quindi il voto è vale. Ma lei dice questo perché è in malafete. E allora consultiamo il codice, va bene? Va bene, consulti quello che gli è pare, il voto è vale. Sempre. Non ci mettiamo, ma non ci mettiamo. Non vado sempre in carino, perché siete sempre in malafete. E uno vado sempre, sempre, ma così, non si riesce mai. Ma sai che sono così tante persone per bene, è qualcosa come un babbaccio di agenza. Ma va a quel paese, vai. Vuoi che stai zitti? Vuoi che stai zitti? Finanze è morta. E' morta sul serio? No, 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 no. Non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. È una differenza. Non c'è, non c'è, non c'è. Giù, giù, no, giù, giù Da bene a uno 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 Da bene a uno